Allora, innanzitutto vorrei esprimere un grande ringraziamento alla dirigente Marcella Tinazzi, dirigente provinciale e a tutti i dirigenti delle scuole di Fano, che hanno subito capito il problema. C'è stata la massima disponibilità e siamo riusciti a trovare delle aule, hanno dato disponibilità di aule, dove mettere gli studenti, è naturale che gli studenti del Nolfi verranno un po' divisi in aule che ospiteranno, partendo dalla Pollonia, arrivando fino al Polo 3, verranno distribuiti in queste aule. La decisione definitiva, o meglio la distribuzione specifica, dove potrà essere letta e verificata? Abbiamo fatto questo incontro, dopodiché saranno i dirigenti che diranno dove andranno alcune classi e dove andranno altre classi. Quelli invece del Raffaello, dove verranno collocati gli studenti? Quelli del Raffaello verranno collocati in alcune, alcuni in delle scuole e altri verranno collocati in dei locali che ci sono stati dati da alcuni enti e nei collegi universitari, per cui si trova anche lì una collocazione per fare iniziare le scuole. Naturalmente scivoleranno l'apertura di queste due scuole, scivolerà la fine di settembre, però ho già sentito i dirigenti che stanno organizzando e faranno dei progetti che porteranno avanti con i ragazzi. Invece che cosa risponde a chi sostiene che le verifiche statiche e sismiche sono state eseguite con ritardo? Credo che se uno fa delle affermazioni deve sapere come stanno le cose. Non sono stati fatti in ritardo, non sono stati consegnati in ritardo, anzi, sono addirittura stati su pressione della provincia consegnati in anticipo e dopodiché, quando abbiamo visto che il Nolfi e il Raffaello avevano problemi di staticità, abbiamo preso d'accordo con alcuni dirigenti della provincia la decisione di dire no, in queste scuole, in questi plessi, noi non daremo l'autorizzazione di iniziare le elezioni. Come provincia abbiamo messo per il Nolfi e per il Raffaello due milioni di euro per il Nolfi, due milioni di euro per il Raffaello come provincia per fare in modo che fossero con il finanziamento le prime ingradatorie che venissero finanziate. E questo ci permetterà di avere delle scuole fra un paio d'anni, delle scuole moderne, nuove, antisismiche, autosufficienti da un punto di vista energetico. La sicurezza dei ragazzi viene prima di tutto. Questa è stata la mia decisione. Poi se qualcuno fa la polemica, la fa, ma le polemiche non portano da nessuna parte. Ci vogliono i fatti, devi stare sul pezzo e lavorarci.